Sono almeno 35.000, secondo le associazioni dei consumatori, i risparmiatori che sono rimasti coinvolti nel crash Cirio, l'azienda guidata da Sergio Cragnotti finita in default nel 2002 per il mancato pagamento delle cedole sulle obbligazioni da 1,2 miliardi di euro, e poi dichiarata successivamente insolvente nel 2003. Il gruppo Cirio, secondo quanto viene riportato nella relazione dei commissari giudiziali, ha alla fine del 1999, dopo una forsennata campagna di acquisizioni, del Monte, Bombrile e la società sportiva Lazio, costata oltre 640 milioni, un debito superiore al miliardo di euro, di cui l'85% verso le banche. Una somma pari così al fatturato, e ha circa due volte il patrimonio netto. A questo punto il gruppo decide di avviare una serie di emissioni obbligazionarie in Lussemburgo, non dotate quindi di rating, e teoricamente destinate ai soli investitori istituzionali, ma successivamente acquistabili e acquistati da chiunque, che tra il 2000-2002 ammontano a 1,25 miliardi di euro. In questo modo l'indebitamento rimane stabile, ma il debito delle banche passa dagli oltre 870 milioni di fine 1999 ai 335 milioni del 2002, e si sposta così verso gli obbligazionisti, 850 milioni di euro. I principali istituti coinvolti nelle emissioni sono ABEX Bank Credem, UB Unicredit, Banca Acros e Capitalia.